Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Amici di Maria De Filippi, in arrivo la terza puntata del serale Spuntano i nomi degli eliminati. Ecco cosa è successo durante la puntata e chi sono gli eliminati È iniziata la fase del serale di Amici di Maria De Filippi, sono già due le puntate andate in onda e già quattro i ragazzi che sono stati eliminati Nelle prossime ore andrà in onda la terza puntata che vede altri due ragazzi abbandonare il talent Anche quest'anno i professori di canto si uniscono a quelli di ballo per formare delle squadre che si sfideranno nel corso della puntata Le squadre sono tre e sono, Celentano Zerbi, Cuccarini Todaro e Peparini Pettinelli A giudicare le esibizioni dei ragazzi ci sono tre giurati chiamati dalla De Filippi, e sono, Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash dei De Colors Tre le manche e due le eliminazioni per le puntate già andate in onda Le puntate sono registrate e solo la finale è in diretta, una scelta fatta dalla De Filippi per consentire la preparazione delle scenografie, quest'anno curate da Stefan Giarni Però la registrazione ha dei contro e dei pro, infatti Maria deve fare i conti con gli spoiler fatti dal pubblico presente in studio Ecco chi sono gli eliminati della terza puntata, spuntano i nomi sul web La De Filippi anche quest'anno ha deciso di registrare le puntate del serale di Amici qualche giorno prima della messa in onda e questo causa gli spoiler e la rivelazione degli eliminati Ma Maria pensa a tutto ed ha trovato una soluzione anche per questo Se per la prima eliminazione non può fare nulla e viene svelata, per la seconda eliminazione ha trovato un metodo alternativo Maria infatti preferisce mandare i due ragazzi che sono a rischio in cassetta, dove si collega con la voce per annunciare il nome dell'eliminato Anche per la prossima puntata le talpe in studio hanno svelato tutto su Twitter e già cosa è successo e chi sono i ragazzi a dover lasciare amici I ragazzi di Amici di Maria De Filippi A riportare le anticipazioni su Twitter è la pagina Mitch News, secondo cui il primo ad essere eliminato è John Eric della squadra Peparini-Pettinelli Il ragazzo si è sfidato contro Albe e Critical che hanno avuto la meglio Per la seconda eliminazione invece sono andati al ballottaggio Leonardo e Nunzio, entrambi ballerini di latino americano Sono in cassetta sapranno chi tra loro dovrà lasciare il programma, ma stando alle anticipazioni che arrivano anche oltre lo studio il secondo eliminato sarebbe Leonardo, allievo di Alessandra Celentano Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video